ciao a tutti amici io sono franca versa e oggi come avete visto dal titolo andiamo a vedere questo effetto simpatico telescrivente e vi spiego alcune differenze anche con altri nodi di programmazione quindi andiamo sulla media pool clicchiamo new fusion composition e creiamo la solita composizione andiamo all'interno di fujo e abbiamo nostro media out come al solito colleghiamo il nostro background per dare le dimensioni del nostro schermo vediamo io sono a 1920x1080 e vi ricordo che questo viene gestito dal tab image se abbiamo questa spunta auto resolution prende in automatico la risoluzione della nostra timeline questo garantisce che in uscita appunto la nostra animazione abbia le stesse proporzioni inoltre qua dal background possiamo andare su color e impostare l'alpha in opaco come in questo momento oppure se abbiamo bisogno di sovrapporre la nostra animazione ad un video basterà abbassare il segnale alfa adesso io lo tengo su perché mi serve nero per far contrastare di più l'animazione allora quello che volevo farvi vedere io è che sembriamo se prendiamo un nodo di testo e lo colleghiamo così trascinandolo si genera merge se andiamo in testo da inspector possiamo scrivere quello che desideriamo effetto telescrivente già qua sul testo sappiamo che abbiamo write on che ad esempio con il quale possiamo avere già subito pronto questo effetto telescrivente e ci sono alcune limitazioni ad esempio noi andiamo all'inizio attiviamo un keyframe poi decidiamo una velocità di comparsa andiamo a allargare questo e quindi da un punto di un keyframe A a un keyframe B avremo questa animazione ecco qua se la nostra animazione dovrà essere più veloce più lenta dovremo intervenire nei keyframe andando a visualizzare quel nodo testo questo si ottiene selezionando il nodo e inserendo show only select tool quindi ci farà vedere solo il nodo di testo selezionato ecco i due keyframe qua dovremo sottolineare con tasto sinistro sottolineare questi e allungare la nostra animazione o accorciarla per farla più veloce io adesso la lascerò più lenta perché voglio farvi vedere una cosa questo è l'effetto che otteniamo adesso vediamo cosa succede se dovessimo riutilizzare questo effetto e vado ad esempio a scrivere ciao tanto per farvi vedere succede che appunto essendo che l'effetto si sviluppa tra in e out se facciamo così vedete che le lettere sono apparse molto molto più lentamente perché come avete visto qui il nostro brighton si muove in quello spazio lì tra i due keyframe insomma quindi se abbiamo meno lettere staranno di più apparire e al contrario se avessimo tante lettere cosa succederebbe che quelle lettere apparirebbero più veloci perché sempre tra questi due punti deve essere completata la scrittura spero di essermi spiegato allora andiamo a fare invece utilizzare un'altra caratteristica del testo vado a trascinare giù un nodo nuovo lo collego e vado a scrivere effetto tele scrive e questa volta non utilizzo il brighton per far apparire i caratteri ma vado qui clicco tasto destro e faccio follower attenzione qua vedete che il modificatore è spento quando clicco follower si attiva il modificatore entriamo qui e facciamo una cosa particolare andiamo all'inizio del nostro time ruler andiamo sul shading dove abbiamo l'opacità dei caratteri vedete che quando muoviamo qualcosa qui sul modificatore non succede nulla perché sul modificatore deve essere prima attivata l'animazione e poi si può impostare diciamo il valore quindi hanno al punto 0 il keyframe 0 andiamo attivare il keyframe e possiamo abbassare l'opacità a questo punto la nostra scritta sparisce andiamo a spostarci di un frame e alziamo la nostra opacità e ecco appunto abbiamo questo passaggio è tra spento e acceso adesso invece di volere immediato questo passaggio vorremmo ricostruire una specie di effetto telescrivente come prima cosa facciamo in questo caso andiamo sul timing dove abbiamo questo delay innanzitutto mettiamo come ordine sinistra a destra questo vuol dire che su tutti i caratteri verrà utilizzato l'ordine da sinistra a destra adesso vi faccio vedere perché e questo è il ritardo che avremo nell'animazione dei caratteri proviamo a spostare un pochino e vedete cosa succede spariscono le lettere perché spariscono le lettere perché questo ritardo viene agganciato appunto ai caratteri da sinistra a destra torniamo indietro e proviamo a mettere in play e guardate abbiamo ricostruito l'effetto telescrivente come vedete con la proprietà che più avremo delay e più avremo un ritardo sulle lettere come vedete quindi se alziamo avremo la lettera che si scrive lettera per lettera quindi adesso vado a abbassare un po per avere un effetto un po più normale di telescrivente lo voglio ancora un po più veloce vediamo eccolo qua un pochino più veloce lo vado a accelerare qui e possiamo anche decidere dove finirà semplicemente perché se io decido che deve finire qua andrò a abbassare fin tanto che vedo la scritta intera quindi sono sicuro che in questo punto l'effetto sarà finito quindi mi è anche molto più semplice decidere in quanto tempo apparirà questa scritta però guardate cosa succede adesso innanzitutto cambiando qui l'ordine invece di avere sinistra a destra mettiamo destra a sinistra e vedete che la scritta in automatico si scrive al contrario quindi vedete che ci sono molte più possibilità senza dover spostare bright in brighton quindi molto simpatico inoltre avremo anche altre caratteristiche come ad esempio inside out che dal centro lo fa scrivere ai lati entrambi i lati vedete la scritta parte dal centro e va così o viceversa outside in quindi la scritta parte dai lati e va verso il centro anche questo come vedete molto simpatico e poi abbiamo random che fa comparire le scritte così anche questo è già un effetto molto piacevole e poi abbiamo completamente random quindi vengono a caso come vedete a gruppi eccetera e ogni volta sarà diverso oppure con una curva manuale noi adesso ci concentriamo sul discorso sinistra destra che è quello che ci interessa guardate un'altra cosa guardate la velocità con cui compare la scritta e adesso attenzione vado a modificare il testo come prima ad esempio scrivo solo ciao e noterete che la scritta non compare più veloce ma compare sempre con la medesima velocità di prima che siano poche lettere o che siano tantissime la velocità sarà la medesima quindi ecco due caratteristiche interessanti di questa possibilità adesso vado a riscrivere effetto telescrivente ok voilà ovviamente su shading abbiamo la possibilità di cambiare il colore alla nostra scritta anche questo deve essere attivato adesso voglio utilizzare e sfruttare la stessa caratteristica per fare apparire una specie di cursore come avete visto in sigla guardate come faccio vado a usare sempre un testo lo vado a agganciare qui lo sposto leggermente in giù posso usare sia ad esempio il layout e spostarlo così e come testo vado a fare una riga di underscore cioè trattina in basso diciamo no? la faccio della stessa dimensione del mio testo e poi lo vado di nuovo su layout a riposizionare la base ma non preoccupatevi perché poi lo potremo risistemare andiamo anche a cambiare i colori direttamente e andiamo a mettere lo stesso verde a seconda dei vostri gusti adesso facciamo ancora il follower quindi abbiamo attivato il modificatore però questa volta cosa facciamo sempre left to right quindi verrà scritto questo carattere e facciamo sullo shading di regolarne l'opacità però guardate cosa facciamo andiamo a accendere la mettiamo trasparente poi ci spostiamo di un frame lo mettiamo acceso e poi ci spostiamo di un altro frame e lo mettiamo spento avremo così come vedete il carattere che compare e guardate cosa succede andiamo a attivare il timing come prima con un ritardo impostiamo un ritardo e avremo questo carattere che siccome si accende e si spegne poi si accenderà l'altro e si spegne e così via sembrerà come vedete correre avanti adesso ci basterà andare alla fine di scrivente e regolare il delay per per vedere l'ultimo che si accende vedete così è troppo veloce quindi devo ritardare e lo ritardo finché lo vedo sotto la lettera praticamente in questa maniera procederanno assieme e guardate che simpatico se mettiamo in play abbiamo una specie di cursore come avete visto questo si può regolare sia regolando il delay in maniera come vedete di averlo acceso nel momento giusto inoltre se vogliamo allinearlo meglio potremo senza difficoltà ad esempio aggiungere un nodo transform e semplicemente spostare in orizzontale il nostro trattino ad esempio o giusto sotto il carattere quindi vediamo vedete che appare correttamente giusto sotto il carattere è molto simpatico un'altra cosa da fare facendo attenzione potremo aggiungere sul setting un motion blur a questo trattino che si muove e quindi dargli una qualità di motion blur e uno shutter blur in maniera di farlo in movimento e ottenere una cosa molto più morbida stessa cosa anche sulla nostra scritta eventualmente sul setting possiamo attivare un motion blur e dargli un motion blur anche alla scritta anche se eccolo qua così facendo rallenterà un po' diciamo un po' così e voilà per abbellire il tutto adesso andiamo a vedere così in grande così si vede un po' meglio eccolo qua per abbellire il tutto potremmo utilizzare degli effetti ad esempio sul nostro cursore possiamo andare qui e aggiungere un nodo soft glow in maniera da fare questo cursore bello luminoso eccolo qua vedete che adesso è più è più luminoso e poi potremmo fare volendo la stessa cosa sulla scritta di aggiungere anche qua un soft glow e fare la nostra scritta luminosa anche qua si può regolare l'effetto se volete fare una cosa simpatica possiamo anche sganciarlo farlo ad esempio in verticale e poi andiamo a regolare l'effetto per averlo leggermente morbido ed ecco guardate l'effetto è bellissimo adesso ho aggiunto un suono diventa anche una cosa simpaticissima io per fare un effetto anche all'interno del carattere per simulare delle righe cosa ho fatto ho aggiunto un fast noise andiamo un attimo a visualizzare di qua vado a aumentare dettaglio e contrasto lo riduco la scala sgancio e lo tiro verticale ecco qua per creare delle righe queste righe le coloro la trasparenza la rendo opaco e la faccio verde uguale il carattere e questa ad esempio potrei farla nera e adesso vado a legarle con un merge in maniera che questo effetto andiamo a inserire in e venga all'interno del mio font andiamo aggiungere fast noise un set e un'animazione e come vedete ora abbiamo un'animazione all'interno del nostro carattere che dipenderà dalla dalla velocità della rotazione qui torniamo nella nostra edit page la dobbiamo eh magari renderizzare questo effetto in maniera che sia più scorrevole e possiamo usare un effetto audio per avere un effetto della telescrivente e ecco il nostro effetto telescrivente carinissimo con realizzato con poco si trovano anche già dei font con delle righe orizzontali molto simpatici ecco guardate ad esempio anche questo pixelizzato che carino e allora qua va ovviamente usata la stessa dimensione anche di questo font e bisogna rifare l'allineamento con col cursore bene spero che questo tutorial vi sia piaciuto e poi gli abbonati troveranno parte di programmazione all'interno di mega vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti cliccare sulla campanella per essere avvisati quando posto nuovi video e ci vediamo alla prossima volta ciao ciao